La produzione audiovisiva è un processo complesso e spesso costoso. Realizzare un audiovisivo significa mettere in atto una serie di procedure tecniche, economiche, comunicative e normative che possono essere frutto di processi lavorativi industriali oppure artigianali, meno rigorosi e legati all'intraprendenza personale. Naturalmente tali procedure dipendono dal contesto in cui si opera, per la televisione broadcast, per il cinema o per il settore video, quest'ultimo sganciato dalle ferre regole industriali impiegate in ambito televisivo e cinematografico. In linea di principio è importante, per chiunque voglia occuparsi di fare audiovisivi, affiancare le capacità creative e tecniche con la conoscenza sia delle logiche economico-manageriali che di quelle editoriali comunicative dei progetti a cui si lavora. Le due macro aree in cui si è solito dividere la produzione audiovisiva sono il genere fiction e quello documentaristico. Nel primo settore rientrano i film, i serial, gli sketch televisivi e le nuove produzioni narrative del web. Nel secondo genere, quello documentaristico, si annovrano i documentari, i reportage, le inchieste, le documentazioni di attualità. La produzione audiovisiva prevede un processo a fasi. Di seguito forniamo indicazioni generali che dovranno necessariamente essere adattate, ampliate e approfondite a seconda del contesto in cui ci si trova ad operare. Le fasi sono le seguenti, sviluppo delle idee progettazione, preproduzione, produzione, postproduzione, distribuzione. La base di partenza di un audiovisivo deve essere un progetto che possa prevedere il risultato finale in termini di riuscita comunicativa e finanziaria. Maggiore l'attenzione che si presta a questa fase, più alta è la possibilità di riuscita in modo particolare nel caso di produzioni industriali. La preproduzione è il primo e più importante step nella realizzazione di un audiovisivo e la vera e propria preparazione del video. A sua volta, la preproduzione può essere suddivisa in diverse fasi, a seconda della complessità del video o dal tipo di produzione che si intende realizzare. Si può andare da una serie lunghissima di passaggi, come nelle produzioni cinematografiche, fino a procedimenti nettamente più brevi, per le produzioni indipendenti. In ogni caso, nella preproduzione, bisogna far fronte a determinate esigenze, come il reperimento dei fondi necessari, la scrittura della sceneggiatura e l'individuazione del cast artistico, attori e comparse, e cast tecnico, regista, direttore della fotografia, operatore, ecc. Questi ultimi ruoli possono essere affidati a una sola persona nel caso di produzioni più leggere e non cinematografiche e televisive. È una fase piuttosto impegnativa, in quanto eventuali errori commessi, a questo punto, si ripercorteranno in tutto il processo produttivo, con il rischio di portare al fallimento l'intero progetto. Al termine di queste fasi si dovrà essere pronti alle riprese. Le riprese sono la trasposizione audiovisiva della sceneggiatura e sono la vera azione produttiva. Nella realizzazione delle riprese è importante considerare tanto gli aspetti tecnologici quanto quelli espressivi. Le figure professionali coinvolte sono diverse e il loro numero dipende dal tipo di produzione. Si va da troupe numerosissime a equip composte da pochissime persone. Casi limite sono le produzioni curate da una sola persona, il filmmaker. Il filmmaker dovrà possedere tutte le competenze registiche e fotografiche necessarie alla corretta realizzazione dell'audiovisivo, oltre alle competenze tecnologiche. I nuovi scenari tecnologici, oltre alle telecamere e cineprese standard, prevedono l'utilizzo di nuovi dispositivi atti alla ripresa. Sul web o in produzioni sperimentali sono previste riprese effettuati con smartphone o tablet, mentre particolari necessità di riprese vedono la presenza di tecnologie estreme, come la ormai diffusissima e adattabilissima SportCam o le più svariate tipologie di droni dotati di telecamera. Il montaggio è fattore fondamentale per la riuscita artistica del film e consiste nella scelta delle scene girate da utilizzare nel prodotto finito. Il montaggio è necessariamente operazione tecnica, unione delle inquadrature accompagnate da una colonna sonora ed eventualmente da grafica, ma anche operazione espressiva dal momento che le operazioni tecniche devono essere subordinate ad un progetto comunicativo. Mentre film o documentari tradizionali, cinematografici o televisivi, vincolano ad una fruizione esclusivamente sequenziale, dall'inizio alla fine, gli audiovisivi digitali consentono una fruizione di tipo non lineare e ipertestuale. Il flusso delle immagini in movimento può essere continuo oppure integrarsi con testi, grafici, immagini fisse, altri video, interviste, link e con il flusso di dati che circolano sulla rete telematica mondiale. L'innovazione digitale e la nascita di Internet hanno dato vita a profonde trasformazioni nei mass media e nelle produzioni audiovisive, le quali hanno trovato nella rete un nuovo canale distributivo, caratterizzato da un'enorme potenzialità. Negli ultimi anni sono sorte e numerose piattaforme per la distribuzione audiovisiva online, che può definirsi distribuzione 2.0. Bisogna sottolineare che l'evoluzione è continua riguardo alla distribuzione online e il concetto chiave che accomuna i vari cambiamenti tecnologici, economici e estetici fruttivi è quello della convergenza e delle nuove opportunità del mondo virtuale. In conclusione possiamo affermare che il risultato finale del nostro prodotto audiovisivo dipende dalla capacità di affrontare un progetto in tutte le sue componenti, curandone gli aspetti creativo-comunicazionali, tecnologici, economico-manageriali e di marketing. Carlo Galizia schematizza questo processo con l'immagine di un bicchiere. Il calice rappresenta la progettazione, lo stelo la produzione e il piedistallo la distribuzione. Il manico di congiunzione tra calice e piedistallo rappresenta l'azione di marketing risultante dal lavoro congiunto degli autori con gli editori. Per determinare utili economici il bicchiere deve stare in piedi, cioè deve avere un piedistallo più ampio del calice. Per ottenere questo bisogna quindi riuscire a bilanciare tutte le fasi di lavorazione senza trascurare quegli aspetti che, soprattutto a chi si avvicina per una prima volta al video, possono sembrare secondari.